E' certamente l'evento più atteso da tutti gli studenti dei licei classici d'Italia, una delle proposte più innovative nella scuola degli ultimi anni. Giunto alla sua sesta edizione la Notte Nazionale del Liceo Classico, quest'anno registra la partecipazione di ben 436 licei classici su tutto il territorio italiano. Nato da un'idea del professor Rocco Schembra, docente di latino e greco presso il Liceo Classico Giulli e Pennisi di Acireale, ha catturato sin dal suo primo apparire l'attenzione dei media e ha ottenuto anche l'approvazione ministeriale. In una data comune, che quest'anno è venerdì 17, in contemporanea dalle 18 alle 24 le scuole aprono le loro porte alla cittadinanza e agli studenti dei licei classici d'Italia si esibiscono in svariate performance. Maratone di letture di libri e poeti antichi e moderni, esposizioni di arte plastiche e visive, concerti e attività musicali e anche presentazione di libri, incontri con gli autori e molto ancora di più. Tutto lasciato alla libera inventiva e creatività dei giovani guidati dai loro docenti. Tra i 436 licei italiani che domani alle 18 apriranno i propri portoni c'è anche il Nolfi-Apolloni di Fano. È l'occasione nella quale il nostro liceo Nolfi-Apolloni presenta pubblicamente alla città il significato, il valore della cultura umanistica in senso proprio, che è una cultura di grande tradizione, di grande potenzialità e di grande capacità di apertura di metodo sulle diverse dimensioni dello scibile, dei saperi, dell'epistemologia contemporanea. Tra i tanti temi ce n'è uno in particolare che voi presenterete. Domani sera noi presenteremo un laboratorio sulla democrazia, a partire da quello che è il valore etimologico di questa parola, quindi da dove deriva questo termine e andremo ad analizzare questo sistema politico che ormai da anni è il sistema politico anche in Italia, per vedere un po' quelli che possono essere i vantaggi ma anche i difetti di questo sistema politico. È fatto anche un lavoro di ricerca. Ci siamo documentati attraverso alcune letture, ad esempio di Luciano Canfora oppure di Bonazzi e grazie a queste letture siamo riusciti a fare un confronto diretto tra quella che era la democrazia nell'antica Grecia e quella che invece è oggi. Cercheremo di presentare e di proporre quali sono i limiti e i difetti che presenta la democrazia attuale, non solo italiana ma anche degli altri paesi, attraverso anche un'analisi e un commento di testi sia greci per vedere anche le differenze tra quella che era la democrazia nell'antichità e quella che invece è diventata la democrazia oggi.